Siamo con Cadia Picchieri, vicepresidente dell'Associazione Rete Sociale, in Senato un focus sul sistema di affidamento dei minori e sulle nuove regole che entreranno in vigore. Buonasera, siamo onorati di aver organizzato insieme al nostro presidente, il senatore Lucio Moran, questa giornata in cui abbiamo avuto l'onore e appunto il prestigio di avere con noi tante diverse istituzionalità come per esempio la grande nazionale degli adolescenti e dell'infanzia, poi la vicepresidente del Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Assessenti Sociali, il dottor Paolo Bruno, appunto il nostro magistrato in Europa, diciamo così, nel senso che appunto ci sostiene in questi interventi proprio funzionali a fare in modo che il focus finalmente appunto da parte diciamo delle istituzioni, del governo, sia proprio quello di attenzionare sempre di più l'interesse superiore del minore. L'interesse superiore del minore come poi è visto come un legame che deve essere rafforzato all'interno della propria famiglia, del proprio nucleo familiare, quindi il sostegno della fragilità familiare anziché appunto la divisione.